Musica Buonasera a tutti e benvenuti Bentornati su Hey Monster Bentornati di nuovo Nel gioco che ho conosciuto Grazie ovviamente ai miei E anche qualche video di Mammoth Che ho guardato come ho sempre detto I primi qualche video di team 1 o 2 E poi dopo ho deciso di giocarlo anch'io E lo gioco con voi ragazzi Infatti avete visto non sono da tanto avanti Una cosa vedete ho messo il cursore del mouse Perché l'altra volta si capiva tantissimo Dove cazzo andavo con la roba E allora ho messo il cursore del mouse E niente ragazzi ho deciso di spiegarvi Qualche trucchettino che mi hanno consigliato Anzi mi avete consigliato sia voi Che anche a Zenka che ci gioca abbastanza Praticamente qualche trucchettino Qualche cosina per guadagnare veloce E per avere oggetti molto in fretta Spero di ricordarmi di tutti Sinceramente perché mi ha fatto una lista così di roba Spero di ricordarvela tutta Prima di incominciare ragazzi Vi ricordo di lasciare il pollice su per questo video E niente possiamo incominciare di nuovo con i Monster Allora prima cosa da fare Quando arrivi vedete Arrivate qui E ci sono un paio di cosette che potete cliccare Allora ci sono gli eventi Che gli eventi a seconda del periodo ci sono E una volta che ci siete vedete Ci sono i vari eventi Se io vado qua vedete ma che roba Posso prendere la roba Che bello Posso prendere la roba E ho detto una gastroneria di diamanti Cioè qua Le gemme le puoi prendere anche così L'altra volta mi hanno cazziato male Ma hanno detto anche che Sti incenso e sti palloncini qui Serviranno molto più avanti Quindi Devo tenermeli stretti Comunque le cose che mi servono Devo andare a vedere i pallini rossi Vedi se ci hanno i pallini rossi Io ci clicco sopra E mi danno la roba Ah no questa non la posso prendere Perché devo essere VIP Devo essere VIP Quindi questa non la posso prendere Però domani posso prendermi questo Va a giorni va Va a giorni Quindi allora posso andare anche Questo c'è il GIFT Più stai online Più questo lo puoi prendere Se sto online due minuti mi da questo Poi mi da questo Mi da questo Mi da questo Più sto online Più ricevo della roba Praticamente Allora vado nelle capsule E posso prendere questi Ok Allora posso prendere questi Vediamo un po' Mi becco subito Nella prima Vabbè una caramella c'è sempre Ho beccato Yeee Antiparalisi Yeee Che culo Allora in teoria potrei prendermi anche questo Ma vedete L'ho già preso Tra nove ore Posso riprendere un altro gratis Un altro gratis Che poi dopo ci puoi chiedere di tutto Ehm Fai vedere Mi fa ancora il pallino blu L'allino blu Perché potrebbe Ardetto Che la cazzo è vera Se piggio sul cazzo Che succede A me va ai costi E beh sti ghiazzi Vado a comprare la roba Non ci penso neanche Ehm Altre cose Mi hanno spiegato finalmente Come si fa a farci seguire dal pet Io sinceramente dal pet E io sinceramente voglio fare questo Ehm Ta daaaan Noctol Guardate Figo Noctol Fighissimo Beh Non mi piace troppo a me Noctol Guardate Diamo un po' più di luce Così mi vengo più illuminata La luce divina Ok Allora Arrivati qua Ah ma hanno anche detto di tenere sempre aperta questa finestra Perché torna utile Comunque hanno sempre di tenere aperta questa finestra Allora direi di andare avanti Con le quest Ha una cosa importante che mi hanno detto assolutamente di dire E che quando arrivo qua Vedete qui ci sono i più forti praticamente Qui ci sono il top del top Andando qua praticamente Io vado da sto coglione Vedete che mi ha perso un like qui sopra Se io clicco Tutti i giorni Una volta al giorno posso venire E Dai 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 Oh Mi danno 10.000 Con la velocità internet non come la mia Mi danno 10.000 anche prima magari Comunque Ci possono fare anche i due lì sopra Ma sinceramente parlando Stare qui in mezza giornata Non c'ho voglia Quindi Andiamo avanti Con le quest del gioco Devo andare allora Dal pokemaniaco Che pigio su go Così facciamo prima Andare dal pokemaniaco Che non è un maniaco dei pok Cioè Mmm E i pokémon C'è una roba No praticamente è uno che è appassionato di pokémon C'è anche i calzoni A forma di charizard Tra l'altro Perché Pokemaniaco Un maniaco di pokémon Quindi vabbè Ok Allora E ho incontrato i pokémon Nell'erba alta Ci sono i pokémon Di tipo acqua Che puoi prenderli pescando Ok Vedete ragazzi Questi libri giulini qui Anche sono molto utili Per potenziarsi il pokémon Allora Ehm Se io pigio qua Cosa mi fa fare Ok mi fa ancora andare Non sei Per i pesci Non andare Non ho capito onestamente Vedremo adesso Arrivato fin là Cosa succede Ehm Che corino C'è una canna da pesca No che bella No non voglio fare la guida di pesca No che laggo Niente guida di pesca Non voglio fare la guida Ok Peschiamo Ta tata 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 Ho cercato qualcosa Penso di sì Pescato Ho pescato qualcosa Cos mi ho pescato Poliwag Coconino Mi sa che lo catturo A me piace Poligag Perché Poligag è figo, no? Allora, Pokéball Back, le Pokéball Sfera Poké, vai! Dai, ma fortuna? Fortuna? Ma vai, così ci fa Guardate che bello, questo è bello Questo è bellissimo Un bel Poliwag, questo mi piace Un bel Poliwag Allora, ho fatto la quest Ok, ho fatto la quest Questa è stata una quest abbastanza facile Ragazzi, ho provato ad avviare Mi giuro, mi si era bloccato, non riuscivo più a avanzare E io non sto laggando Vedete qua, vabbè, qui c'era la mia schermata Vabbè, non sto laggando Beh, sì, vabbè, voglio comprare Oh, forse adesso ho smesso di laggare Oh, guardate, posso fare l'attivity gift E mi prendo, tadan, 10.000 Che laggo ancora un pochetto Laggo di meno, ma laggo ancora un pochettino Comunque Oh, ciao Charizard, come stai? E mi si aprirò la random Mi si aprirò la random Mi viene da piangere Comunque, quasi quasi, adesso Da solo Voglio catturare qualche altro Pokémon Perché sinceramente Andare avanti, esageratamente con voi Rischio di annoiarvi Quindi probabilmente adesso Andrò avanti un po' con le quest principali Queste Le missioncine le farò con voi Le farò con voi Ma la cattura dei Pokémon All'allenamento Magari quello ve lo salto Perché può essere molto noioso Ah, guardate, mi son messo qua sopra Vedete Se andate su account qui sopra Posso scegliere l'avatar Vedete, guardate, adesso ne sono un paio Io mi son messo questo qua Primo che avevo sotto mano, praticamente Quindi, allora, andiamo avanti Andiamo ad andare dal Team Rocket Dal Team Rocket Ecco qua Buongiorno, signor Team Rocket Dai, sembra che lagga Ah, lagga meno, comunque Ok E credo Non l'ho capito I tuoi Pokémon Ah, ok Cosa devo fare? Devo vedere Due Pokémon Green Qualità Green più uno Green Brick Che green Brick più uno Ehm Momento Che me l'hanno spiegato Se non sbaglio Devo andare Ehm Poké Center Fermi, eh Che lo so, eh Fermi Devo andare su Poké Center Puoi andare Ehm Me l'hanno spiegato, eh Perché me l'hanno spiegato Me l'hanno spiegato Lo so Lo so Mi vorreste corcare Perché lo devo sapere Ehm Eccolo qua Brick Deve essere questo Eh sì Devo praticamente Devo potenziarmi I Pokémon Eccolo qua Brick Devo prendere Sti giornalettini A farlo diventare Eccolo qua Infatti Vedete Noctal più uno Ah ok Quindi devo praticamente Potenziarmi il Pokémon Facendo così Tranquillamente Solo che a me Mi manca Qualche cosina Se Dall'uno Se no Quale faccio prima Quale si fa prima Ehm Alla fine è questo Psyduck Spend all'uno Quindi niente Se non sbaglio Poi mi hanno anche spiegato Se vado qui Se non so My Roll No Questo è per cambiarmi La skin Via Vedetti Vedetti Pugia via Se non sbaglio Ragazzo Dove cazzo si andava Ricordo più Ah Trainer Trainer Ecco Se vado su trainer Posso andare Anche queste Praticamente Tutte le missioni fatte Vado qui E posso prendermi i premi Adesso vabbè Io li ho già presi Li ho già presi tutti E praticamente Questo è per far prima Cioè entro nel percorso E faccio prima Vedete Sono gli allenatori Che ho sfidato Per finirlo completamente Bisogna fare tutte e tre stelle Vabbè Il primo ho fatto abbastanza in fretta Vedete Qui praticamente C'ho Psyduck Che mi serve Questo io lo chiamo Combattimenti rapidi Perché se io Sono qua Periggio sul raid Cioè combattimento Mi fa la quest da solo La fa da solo Cioè adesso Ho combattuto Io ho combattuto velocemente Che bello Adesso lo devo fare Finché non Mi da quello giusto Dai Ok Ok Un Psyduck E mi mancava Anche un bell'ossum Praticamente Deve fare questi combattimenti rapidi Ho bisogno di power La power È questa qua sopra Se ho ben capito bene Ma non ve la sicuro Perché sono ignorante Quindi allora Penso che sia quella comunque Allora Allora l'altro invece Devo andare nell'uno No così Ma devo andare così Vediamo Chi c'ho là Meo Ecco Mi sono sbagliato Mi serviva Meo Vediamo un po' No facciamolo ancora Ok Meo Allora In teoria Dovrei aver fatto Quindi vado su Pokemon Devo andare Su Brick E Bellossum No mi sembra Bellessprout Bellessprout Allora devo andare Di nuovo Psyduck Pokemon Infatti vedi C'ho lo spallino blu C'ho il pallino blu Adesso io posso Mettermelo E potenziarmelo Ed eccolo qua Pum Bellessprout Bellessprout In break 1 Infatti Infatti ce l'ho fatta Eccolo qua Io ne avevo già uno Ne avevo già uno Si vede E allora Non me l'ha contato Io adesso torno Da sto Team Rocket E dovrei completare La quest E infatti Me l'ha fatta Me l'ha fatta Vai così si fa Così mi piace E così si fa E ho completato Anche questa quest Mi ha dato Qualche bello Il giochettino Sono a livello 12 Sono a livello 12 E adesso Potrei andare A sfidare La palestra Potrei andare A sfidare la palestra Sinceramente parlando Sfidare la palestra Mi interessa Ah no Ah no Devo andare Dove mi importa Ah Buongiorno signore Lei per caso Sa come ci fa La palestra Perché se non lo sa Tranquillo Che chiedo Qualche di un altro Speratamente Non vuole mica Interromperla Ah si Devo andare A combattere La palestra Eh si Ho preso Un bellossum Dal professor Rock Esatto L'ho preso Ma che Ha detto C'è un bellossum Si ce l'ho Ah perché Forse è di tipo Roccia o terra Quindi bellossum Si mi torna utile Mi torna Infatti Ce li ha Di tipo Terra E quindi Un tipo Erba Mi torna Veramente utile Si io vado My roll Ah posso Posso scegliere Non lo voglio In squadra E' un pokemon Forte Che mi ha dato Il gioco E sinceramente Parlando Non lo voglio Ok Non ce lo voglio Preferisco avere Pokemon Che ho catturato io E li ho allenati io Lo preferisco Ve lo giuro ragazzi Lo preferisco Quindi sto bellossum Io lo userò Lo userò Ok Finchè non avrò Una bella squadra Di pokemon Che piacciono a me E la madonna Stai po' Calmino Madonna che pedata E calmo State calmo State calmo State calmo State il doppio calcio State calmo Vai bellossum Vedi Tira fuori i fiorellini Madonna Ma non serve neanche chiedere Si è un nido king Seriamente Doppio calcio Che male Che male Vabbè Comunque Battuto anche questo Ok Vittoria completa Perfetto Vedi Ho accaduto il premio Un scivino E dai però Quante ce ne so Prima di sfrontare Sto qua Mi ha attaccato Per primo Sono venuto qua Per affrontare Il capo palestra Quindi state calmo State calmo Ok Vedi Quante roba Quanta roba Ah ok Quest Cos'è Bounty Go claim Aspetta C'è qualche cosa Vediamo un po' Dov'è che mi porta Cliccando lì Vediamo un po' Dov'è che mi sta portando Dov'è mi sta portando Se avete qualche trucchettino Scrivetelo pure nei commenti Perché sinceramente Non mi dispiace Avere qualche trucchettino Intererante Ok Ho fatto una bounty quest Ah Sono queste aggiuntive Che posso avere Per avere qualche cosa in più Per esempio Mi sono preso questa Ok No Ho pagato Che pirla Ho pagato per farla questa Senza farla Ho sfregato le gemme Fato pirla Fato pirla Altro soffrimento Pussa via Questi mi piacciono Dovebbero essere tutti così Via Ok Vittoria di Sam E a lei Capo palestra Ok Non c'è capo palestra Quindi devo affrontare lei Come sostituto Ok Quindi questo dovrebbe essere capo palestra Abbiamo detto Allora Assorbimento Assorbimento Facciamolo secco Vedete ragazzi Troppo facile Non mi piace così Un altro raid Troppo facile Non mi soddisfa C'è proprio Non mi dà quel saporino extra Ok Se ho perso Mi sordi Prima medaglia Vai Prima medaglia presa Medaglia terra Così ci fa Così ci fa E la E posso prendermi anche qualche cugina Posso? Mi fa cliccare Mi sembra che mi si metto buggato No no Perché devo finire di parlare col pirla No posso avere un altro Un altro gift Dai Voglio prendermi quella roba Mi si fa Ok Per la quest del giorno Posso prendermi Vedete ragazzi Dovunque clicco Ricevo della roba Dovunque clicco Ricevo qualcosa Cioè Seriamente ragazzi Perché mi hanno detto Di cliccare qua? Ma forse per uscire Prima dall'edificio? Ok Sì Per uscire Prima dall'edificio Premo qua sotto Challenge Ah Ora posso farli I combattimenti E finalmente Posso fare Posso sfidare Tutto il manda Bene ragazzi Direi che l'episodio Può concludersi qui Forse è venuto un po' più lunghettino Del Dei miei soliti video Quindi mi raccomando ragazzi Adesso sinceramente voglio Dare un po' di pokemon Ne catturerò un pochino Così a meno Non vi tedi un po' più di luce No un po' di meno Non vi attenerò Con queste cose qui Un po' annoiose Però spero che il video Vi possa essere piaciuto Vi ricordo di lasciare La pollice su Se è piaciuto questo video Vi ricordo di lasciarlo Se non vi è piaciuto questo video Condividetelo Condatelo comunque Anche al cesso Mi raccomando E niente Qui dai monster Mi raccomando Ditemi se vi piace Che ve lo porto ancora Posso dire Che è finita Saluta Nocturl Niente lui vuole Fa i cazzi suoi E niente Ciao ragazzi Ciao ragazzi